Grazie a RoboPal non devo più preoccuparmi se il pavimento è pieno di peli. Da quando ho comprato RoboPal non ho più usato la scopa. RoboPal mi rende la vita molto più facile. Quando arrivo a casa da lavoro la casa è pulita, sembra che ci sia stata un'azienda di pulizia. Con RoboPal dedicherete molto meno tempo alle pulizie perché vi libera dal dover spazzare il pavimento tutti i giorni. È il miglior robot per la casa.